Il ruolo del consulente in questa programmazione si è già evoluto molto rispetto alla passata programmazione. Vi era una consulenza verticale, quindi non multidisciplinare. La consulenza in agricoltura era fatta unicamente da agronomi, periti agrari, agrotecnici. Si è passata oggi in questa programmazione ad una consulenza fatta da diversi professionisti, agronomi, biologi, tecnologi alimentari, quindi una consulenza multidisciplinare. Non solo, ogni singola consulenza si è visto che diversi attori hanno partecipato e questo è in linea un po' con il ruolo del consulente nella nuova programmazione. Infatti in questo funge un po' da ponte tra azienda agricola e l'innovazione, dove esperienze personali si incrociano con i rapporti istituzionali. Quindi questo è il ruolo che è molto cambiato del consulente nella nuova programmazione e che è in linea con quanto viene detto nella futura e nella prossima programmazione.